amiche amici di ciclo web del tour de france a cosa abbiamo assistito oggi a un'altra tappa memorabile ma questa veramente destinata a restare nell'immaginario collettivo perché ha avuto questo finale del tutto inedito con la frazione troncata nel bel mezzo della discesa dell'isaran sapete tutto inutile che vi stia a spiegare andiamo subito al commento alla philippe ha perso la maglia gialla era nell'ordine delle cose sapevamo che poteva succedere prima o poi sulle grandi salite è successo oggi però lui ce lo ricorderemo così arrabbiatissimo mentre rientra mentre risale in macchina nell'ammiraglia de koenig arrabbiatissimo proprio per il fatto che la tappa era stata interrotta naturalmente non c'erano alternative l'organizzatore non aveva proprio alcuna possibilità di fare diversamente una frana aveva interrotto anche la strada non si poteva in corsa cambiare percorso fine a volte succede a volte c'è l'imponderabile che ci si mette di mezzo tra l'altro christian proudhon direttore del tour de france ha gestito direi anche con un buon piglio la situazione scomoda immagino abbia avuto dei picchi di stress inerrabili in quei momenti quando gli gli dicevano guarda non si può passare momenti lisergici nell'atto da parte degli addetti alla corsa direzione corsa la giuria nell'atto di fermare i corridori c'era chi non capiva chi non voleva saperne di fermarsi immagini che appunto resteranno nella memoria però proudhon può solo stappare champagne stasera perché credo che oggi tour de france fosse trending topics topic in tutto il mondo che una cosa del genere è una notizia clamorosa molto pittoresca e poi c'è il fatto sportivo torniamo al fatto sportivo alla philippe arrabbiato ma figlio mio tu hai tutta la legittimità di essere incupito perché insomma questo è consonante con lo spirito battagliero che anima questo corridore straordinario la vis agonistica però poi bisogna dire abbiamo l'obbligo morale civile di dirglielo caro giuliano ma ti è andata di lusso veramente oggi per non dire di peggio sul ti è andata di avete tremato è andata bene se domani lui potrà sperare di salvare un posto sul podio perché di vincere non se ne parla ma se potrà sperare a meno che non voglia sorprenderci non so partire sulla cornea del rosalente follia vincere non se ne parla se domani può cercare può sperare di salvare ancora quel posticino sul podio lo deve proprio alla neutralizzazione della tappa nel finale perché lui è convinto che avrebbe potuto recuperare in discesa ma quanto la corsa è stata fermata dopo cinque sei sette chilometri di discesa forse anche di più e lui aveva recuperato quattro secondi su bernal dei 2 07 che pagava in cima all'iseran quindi di cosa stiamo parlando non aveva recuperato nulla ed erano già quasi a metà discesa cosa doveva fare doveva rompersi il collo tra l'altro nella seconda parte la discesa spianava addirittura e nella prima parte abbiamo visto che non è una discesa ad alte velocità era un continuo susseguirsi di curve e tornanti non poteva la philippe sopperire con la tecnica di guida alla mancanza di gambe è una discesa a cui poi bisognava spingere sempre rilanciare di continuo e non si è mai visto che uno che si stacca in salita perché ne ha di meno rispetto a chi lo sta staccando e che non era solo bernal ma erano pure tutti gli altri uomini di classifica di alta classifica non si è mai visto che poi dopo trovi più gambe degli altri o comunque è un caso raro particolare lui cosa avrebbe ottenuto se la tappa fosse continuata si sarebbe finito nella discesa lui aveva davanti stava rientrando su un gruppetto ed era un gruppetto comprendente di tre di tre corredori comprendente valverde caruso e pulse non c'era uno dei tre che gli avrebbe potuto dare una mano perché avevano tutti i compagni più forti avanti quindi avrebbe dovuto continuare a spingere da solo forse forse a fine discesa poteva recuperare su riciport che era con gregor mulberger port sicuramente aveva l'interesse a tirare ma nel fondo valle si sarebbero finiti entrambi alla philip soprattutto che era quello con più motivazione a spingere a inseguire e quindi sarebbe arrivato praticamente alla salita di team colpetto scoperto pronto a farsi di nuovo pugnalare dalle rasoiate dalle coltellate sportive di un bernal che invece era in stato di grazia l'abbiamo visto in discesa bernal quanto continuava a spingere quanto continuava a essere concentrato anche a prendersi sui bravi rischi in alcuni in alcuni frangenti in alcune in alcuni passaggi e quindi tra l'altro bernal era in compagnia di simon yates che avrebbe avuto tutto l'interesse aveva tutto l'interesse a tirare a collaborare nel fondo valle quindi non era solo e in mezzo c'era il gruppetto di garen thomas garen thomas sicuramente non tirava perché aveva bernal davanti ma gli altri sì c'era kruzbeck con laurens de plus un gregario quindi figurarsi quanto potevano tirare bookman ottimo passista c'era landa nibali ricoberto uran che era fomentatissimo abbiamo visto appunto litigare con nibali perché non voleva saperne rigo di fermarsi poi sono chiariti va bene sempre situazioni simpatiche con il colombiano e quindi cosa recrimina a fare alla philippe è andata super bene oggi poteva pagare cinque minuti anziché due minuti se la tappa fosse arrivata alla fine quindi accenda un cero alla sua buona stella oggi si è consumata la tragedia dei francesi che vi avevo già anticipato a volte mi faccio paura da me per come sono non voglio dire gufo però ci vedo bene su certe cose la tragedia dei francesi alla philippe che perde il primato e forse capisce che non potrà riacquistarlo domani e tipo pinot che si ritira all'inizio della tappa tre scene strazianti ma non sono ironico è veramente una scena che mi ha proprio commosso mi ha toccato il cuore a me come a tutti gli appassionati perché cavolo ci deve essere un limite all'aiella a questo ragazzo viene capita sempre una qualche giorno fa parlavo dell'aura negativa di steven krajusweg nei grandi giri caspita ma pinot gli dà le piste a krajusweg ogni volta succede qualche problema stavolta addirittura un incidente banale ieri ha ortato pare la gamba su un'altra bici su un manubrio cioè non è stato non è quella situazione per cui puoi dire ok il tuo fisico a un certo punto dice stop alla fine delle tre settimane come può essere successo l'anno scorso al giro d'italia nella tappa di bardonecchia dopo la tappa di bardonecchia il giorno dopo a cervinia e quindi si può dire ok tu hai un limite fisico strutturale che ti impedisce di vincere i grandi giri però in questo caso veramente un colpo di sfortuna che non auguri a nessuno e poi specialmente dopo aver visto le immagini di tibò in lacrime veramente un momento toccante che resta anche questo nella memoria di questo tour pieno di cose è un tour in cui veramente è successo di tutto non in dosi massicce ma c'è stato un tocchetto di qualsiasi cosa come questa cucina fusion probabilmente che va di modo in questi anni allora domani si riparte alla volta di valthorans con bernal in maglia gialla alla filippa a 48 secondi garen thomas a 1 e 16 krausbeck a 1 e 28 bukman a 1 e 55 poi c'è landa sesto a 4 e 35 ma qui entriamo poi nel campo di quelli che se vogliono provare qualcosa devono tentare la mostra esagerata veramente partire a 100 chilometri dall'arrivo scattare sulla colmette rosalente per tentare di far saltare il banco in maniera clamorosa ma nessuno di loro riuscirà in questo intento ve lo anticipo vabbè anche qui sarò facile profeta e invece la lotta per le prime posizioni resta viva bernal chiaramente in una condizione di massima supremazia non solo il primo anche thomas che gli copre le spalle al terzo posto e quindi è un avversario in meno rispetto a quelli più media immediati che lo seguono alla filippe è in calo l'abbiamo visto e sicuramente non è all'altezza di bernal in salita bukman sta continuando la politica dei piccoli passi e krausbeck è quello da cui mi aspetto domani qualcosa perché è l'unico che potrebbe effettivamente tentare un attacco serio a 20 chilometri dall'arrivo 25 chilometri dall'arrivo un attacco lungo perché poi è tutta salita salita di 33 chilometri domani un attacco lungo per sperare di insomma scalare posizioni quantomeno se non proprio fare fuori bernal credo che thomas resterà in attesa che alla filippe si sgonfi da sé se succederà poi magari se non sarà successo negli ultimi chilometri gli ultimi 5 6 chilometri darà una stilettata e proverà a recuperare questi 30 secondi che lo separano dal secondo posto mentre krausbeck potrebbe fare così ma secondo me si muoverà prima perché dai se hai la possibilità di vincere il tour de france a un minuto e mezzo da te e hai vissuto una corsa senza aver avuto intoppi di sorta o grossi problemi e hai già oltre 30 anni quante altre occasioni avrai di poter vincere un tour nella tua carriera secondo te poche e quindi se non ci provi quando ce l'hai lì a portata di mano quando ci devi provare quindi domani io mi aspetto krausbeck ma non lo dico perché qualche giorno fa l'avevo pronosticato possibile o probabile vincitore del tour de france lo dico perché ci credo mi aspetto che possa effettivamente fare qualcosa e oggi l'ho visto peraltro abbastanza pimpante anche se non all'altezza di un bernal stratosferico bernal ha fatto un numero sull'isaran veramente da lustrarsi gli occhi li ha mollati tutti e assestato ganassoni sganassoni che sono i ganassoni sganassoni da paura ha preso due minuti alla filippo un minuto a tutti gli altri niente questo è il futuro che avanza ma sta già avanzando a tappe forzate da tempo veramente un corridore che minaccia di riempirci tanti tanti altri pomeriggi di ciclismo da qui in avanti io la pianto qui di riempirvi invece le nottate con le mie disquisizioni o lucubrazioni o i miei deliri e vi do appuntamento a domani quando avremo finalmente la soluzione del giallo e sapremo se bernal avrà regalato alla colombia il primo tour de france della storia oppure se ci sarà stato un finale a sorpresa ma questo il tour delle sorprese quindi restiamo in allerta ciao da ciclo web ciao da break tour ciao 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 ciao